Bella a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video sono Orco Verde in questo video volevo solamente avvisare ai miei iscritti che ieri verso tarda notte ho caricato glitch per duplicare le auto praticamente ragazzi molti di voi ancora oggi mi chiedono su playstation network ovvero nei messaggi della playstation se avevo qualche glitch per duplicare le auto comunque se per fare soldi velocemente e ragazzi volevo solamente rispondere a questa domanda a moltissime persone dato che comunque sia non penso che tutti avete visto il glitch per duplicare le auto che ho postato ieri per il semplice motivo che l'ho caricato alle due di notte e dato che appunto è un giorno settimanale e il giorno dopo avete scuola praticamente mentre io caricavo il video voi eravate nel letto a romfare come giusto che sia quindi volevo solamente avvisarvi che appunto avevo caricato questo video riguardo per duplicare le auto quindi fare soldi infiniti e quindi ragazzi vi lascerò il link del video nella descrizione così che potete cliccare appunto nel video che vi lascerò in descrizione e appunto vedere il glitch per duplicare le auto quindi ragazzi potete fare appunto questo glitch per fare tantissimi soldi dato che comunque sia a verso febbraio uscirà il DLC Love Riders parte 2 e forse anche un altro DLC che non si sa appunto che cosa uscirà forse due DLC a febbraio e quindi ragazzi i soldi servono quindi se non avete soldi vi consiglio di fare questo glitch che vi permette di guadagnare veramente un sacco di soldi se duplicate l'auto per l'intero garage o comunque sia addirittura anche due garage quindi ragazzi volevo solamente informarvi di questa cosa dato che moltissime persone mi chiedono ancora adesso se ho qualche glitch dei soldi o comunque sia veloce da fare o per duplicare le auto quindi ragazzi vi ricordo di nuovo che lascio il link in descrizione del video che ho caricato per duplicare le auto guardatelo e cercate di farlo il primo possibile prima che appunto venga rimosso o comunque se venga pacciato e niente ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale se volete passate nella mia credito al cover e troverete il link in descrizione per giocare insieme e inoltre se volete aggiungermi i miei video online di ps4 e orcverde sempre iscrivetevi in descrizione e da orcverde è tutto e noi ci vediamo al prossimo video bella